Bene, allora siamo qui nella conferenza di presentazione dell'evento Un Gol per Amatrice che si trarà il 15 di ottobre 2016 allo stadio Gannassa con noi Rocco Fiorilli del presidente dei Rotaract che appunto ci illustrerà questa manifestazione che sicuramente sarà bellissima a vedere e anche utile per chi ne avrà i benefici. L'evento di beneficenza Un Gol per Amatrice è una partita di calcio che vedrà affrontarsi delle vecchie glorie del termo di calcio e contro la nazionale italiana Attori. Tutto il ricavato dell'evento andrà in beneficenza a favore delle popolazioni terremotate. L'organizzazione di questo evento è stata particolarmente difficoltosa e divertente però mi sento di ringraziare i coorganizzatori Giovanni Cannella e Gigan Publicità e Emilio Travaglini del Rotary Club di Termoli per averci dato una mano a realizzare questo evento stupendo. Inoltre vorrei ringraziare anche gli sponsor che hanno contribuito a coprire i costi dell'organizzazione. La partita di calcio di per sé è una semplice partita di calcio che vedrà affrontarsi degli attori di cui non sappiamo ancora i nomi per una questione organizzativa. Io vi invito tutti quanti a essere presenti allo stadio. Mi raccomando sabato 15 ottobre dalle ore 14.30 venite tutti quanti allo stadio. Per fare anche un gesto di umanità. Sì, umanità e beneficenza. Alcuni vincoli e alcuni cavilli legati all'uso dello stadio si sono... ... Grazie a tutti